Serie B-Win, tutti i colori della passione. Pierini al posto di Francesco Squalificato e dopo sei minuti si mette male per il Pescara perché si infortuna Capitano Livi, un ex di questa partita, e deve entrare Sembroni. Dopo nove minuti c'è la prima occasione della partita, però Guerra va a molle sull'assist di Cacia e spedisce sul fondo. Sedicesimo, gran lavoro di Bonanni sulla sinistra, mette in mezzo una palla dolce come una crepa al miele. Si avventa famelico Gessa che di testa batte Cassano, il secondo gol stagionale di Gessa, terzo in carriera in 70 gare in Serie B-Win. E dopo sedici minuti l'ex Grosseto porta in vantaggio il Pescara, con questo colpo di testa che possiamo riapprezzare. Al ventitresimo ancora il Pescara con questo schema di punizione di Bonanni che trova ancora Gessa, il suo tiro viene però deviato dalla difesa piacentina. Angolo dalla sinistra per il Piacenza che reclama un fallo di mano di Sembroni a centroare, come vediamo dal replay. C'era effettivamente il tocco di mano per il Pescara, ma poco male per il Piacenza perché passano 60 secondi da un altro angolo identico. Arriva il pareggio degli Emiliani con il tocco di sinistro di Tommaso Bianchi, secondo gol stagionale anche per il 22enne del Piacenza. E dopo 27 minuti è 1-1 all'Adriatico. Trentatresimo ancora Bonanni su punizione, spicca Cascione di testa che manda fuori di pochissimo, grande occasione per il Pescara ma è il Piacenza invece a passare in vantaggio. Con questa conclusione fenomenale al trentaseesimo di Piccolo che coglie Pinna fuori dai pali. Traiettoria imprendibile per il 22enne napoletano, possiamo riguardarla in questo replay. Assolutamente colpevole Pinna ma che traiettoria per Piccolo ed è 2-1 per il Piacenza. Nella ripresa entra Ganci al posto di Maniero per Mister Pierini. Il Piacenza prova solo a difendere il 2-1 con il Pescara che invece a far la partita. Ancora un cross di Bonanni da punizione, scora di testa Cascione. Questa volta trova il palo, sempre pericoloso Cascione di testa e sempre pericolosi i cross di uno scatenato Bonanni. Al settimo ancora un tocco di mazzotta, sempre per Bonanni. Il suo cross in mezzo questa volta viene anticipato da Avogadri. Era Gessa a poter trovare l'impatto col pallone per il secondo gol personale ma al sedicesimo ancora Bonanni. Ancora un cross a Roseterra, questa volta è Contè a mettere in calcio d'angolo. Soffre il Piacenza ma il Pescara non riesce a trovare il pareggio. Ma al 34esimo esce Cascione, entra il Bebi Verratti, passa un minuto e sul tentativo di allontanare un lancio lungo mei di testa serve Sansovini. Il suo sinistro schiacciato bacia il palo e batte Cassano. E il pareggio del Pescara all'ottantesimo minuto. Quinta resta è stagionale per il bomber del Delfino che fa esplodere la gioia dei tifosi del Pescara. Una delle tifoserie più calorose della serie B-Win. Mentre qui possiamo riapprezzare il sinistro di Sansovini. Passa un minuto solo e il Piacenza ci prova con la prima vera azione pericolosa del suo secondo tempo. E Marchi con un sinistro che viene deviato dalla difesa pescarese. Finisce fuori di poco alla destra di Pinna. Ci sono cinque minuti di recupero al terzo. Ganci prova a immenescare Bonanni con questo colpo di tattoco. Non riesce ad arrivare Bonanni sul pallone. Avrebbe meritato gol, il migliore in campo di questa partita. Ma finisce 2-2. Il Pescara ritrova il segno X dopo otto partite. Sale 19. Il Piacenza invece guadagna l'ottavo risultato utile consecutivo. Ma rimane nel basifondo della serie B-Win.